Una unità d'azione da parte della comunità generale del Primiero, il Corpo Forestale, i Vigili del Fuoco, gli Alpini che vedo presenti e ringraziamo. E saluto a Pico Scritti che li abbiamo visti belli. A presto a Pico Scritti che vedo presenti e ringraziamo. A presto a Pico Scritti che vedo presenti e ringraziamo. A presto a Pico Scritti che vedo presenti e ringraziamo. a Pico Scritti che vedo presenti e ringraziamo. La cosa principale è dare la parola al Comune e quindi al Sindaco. facciamo la sfilata con questi magnifici colori che ci hanno accompagnato dalla diversità dei Canedari. Il saluto doveroso a tutti voi qui sul territorio per poter fare in modo che tutto avvenga nel migliore dei modi. e organizzare in modo che ognuno per le proprie competenze sia anche disponibile. Il momento che la manifestazione è grande anche a livello di Primiero ma non è un grande concerto e quindi bene. Il nostro gruppo di Primiero anche non manca male. A tutti gli altri gruppo di Primiero è un benvenuto e grazie grazie. Avete visto allo stand anche lui da diversi anni ormai arrivato e qualche giorno fa mi ha... Buongiorno a tutti, grazie per l'invito e mi sento veramente a casa ormai qua. e poi un altro qua appunto anche al Sindaco e alla Lisa che è lei che ha organizzato il suo programma. Ed ecco iniziata la stendita giudizia della clave.